Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio, Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo o in avaria in direzione sud tra B1 Variante e Badia. In A11, rallentamenti ancora una volta per veicolo fermo o in avaria tra Capanno e Alto Pascio per chi viaggia verso Firenze. Regolare al momento il traffico sulla Firenze-Pisa-Livorno. Per il traffico urbano di Firenze segneremo la chiusura di via Ricasoli per presenza di materiale incarreggiata, conseguente blocco temporaneo della circolazione. Con sguardo al traffico aereo il volo Firenze-Palermo delle 19.55 è segnalato in partenza e in ritardo alle 20.55. Mezz'ora di ritardo per il volo Pisa-Londra delle 17.55 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 18.25. Ho avuto un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.